Amici, siamo al top! Adotto un italiano a distanza funziona! I paesi esteri ci adottano e la penisola non si svuota! Continua la nostra missione per... Incrementare la potenza persuasiva! Segui il tuo cuore! Adotto un italiano! Una domanda al volo, quanto è incisa su di voi la crisi? Ma... diciamo tanto! Su di noi personalmente? Sì, parecchio, insomma, tanto! Abbastanza! Cosa vi occupate? Lavoriamo nel commercio e quindi ancora di più ce la siamo sentiti! Quanto è inciso su direi la crisi? Parecchio! Più o meno rispetto al 2010? Ma il 2010 non c'era! Ah, ok! Però da sei mesi a questa parte è parecchio! Adotto un italiano! L'Italia è in crisi, una crisi economica e psicologica! Milioni di italiani stanno migrando all'estero per crearsi un futuro! Max Dahl, fai anche tu un appello! Adotta un italiano! Perché un italiano è creatività e valore aggiunto! La nostra vita può essere cambiata! Contro la staticità che hanno creato! Contro questo arresto di progresso! Adotta un italiano! A distanza! Adotta un italiano! Adotta un italiano! Ma tantissimo, guarda! Per vent'anni senza lavoro! Vent'otto senza lavoro! Adotta un italiano! No no no! No 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 no! Diciamo che hai inciso parecchio! Possiamo fare un non comment! Adotta un italiano! Adottalo adesso! Adotta un italiano! Adottalo un po'! Dario, fai anche tu un appello! Aiutaci! Adotto il tuo a chi ascolta! Adotta un italiano! Sì! Un italiano è per sempre! L'italiano è tradizione! Adotta un italiano! Un italiano! An SP ça psywei duowato! Un italiano è per sempre! Ci Cv parody il Saluto delışki 2010 Abbiamo un esempio!